I reati in provincia di Sondrio sono in calo al meno 17%, i furti nel loro complesso sono diminuiti del 16%, con inabitazione del 40% in un anno, i colpi dei topi d'appartamento sono scesi da 337 a 198. I dati diffusi dal questore di Sondrio Gerardo Acquaviva confermano l'alto livello di sicurezza raggiunto in Valterina Valchiavenna. Tutte le forze di polizia e tutti gli enti sono orientati a svolgere la loro attività tenendo come fattore principale quello della sicurezza, la diffusione della sicurezza, le strategie di contrasto, di prevenzione. Quindi c'è un sistema che funziona. Naturalmente il fatto di avere degli indici di velocità bassi e in costante decremento non ci induce a rilassarci ma ancor più a proseguire in questa attività di prevenzione di contrasto. Il quadro è stato delineato durante la presentazione della carta dei servizi, opuscolo di 60 pagine che in modo chiaro e sintetico illustra i campi d'azione degli uffici, delle specialità e dei reparti della Polizia di Stato attivi in provincia di Sondrio. C'è quella parte di attività che la Questura rende ai cittadini e che talvolta è meno conosciuta e quindi c'è un duplice aspetto, quello di rendere consapevoli i cittadini di quello che possono chiedere all'amministrazione, alla Questura e quello che la Questura deve dare. Quindi un'operazione di informazione, di trasparenza come tutte le amministrazioni sono chiamate a svolgere. Per il passaporto i tempi di attesa a Sondrio sono fra i 7 e i 10 giorni in media, dato fra i più bassi d'Italia. Si possono richiedere anche alla Polizia di frontiera di Tirano. Intensa l'attività dell'ufficio immigrazione in Valtellina di stranieri regolari sono 9.000, i profughi 820, 35 gli stranieri espulsi, 75 invece i fogli di via per allontanare dalla provincia di Sondrio persone indesiderate. Strumenti principali e importanti, oltre al controllo del territorio, delle attività delle persone esercitate dai equipaggi della volante, sono naturalmente i fogli di via obbligatori nei confronti di persone ritenute pericolose o sospette e che quindi vengono poi riportate nei luoghi di residenza con divieto di far rientro nel comune di Sondrio per un periodo variabile da 1 a 3 anni e poi naturalmente la espulsione nei confronti dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e quindi non autorizzati a permanere sul territorio nazionale. Grazie a tutti.